Dobbiamo dare, inshallah, a questa città applicando i metodi che ci sono, i metodi democratici, i metodi del dialogo, i metodi del confronto e quest'oggi il confronto lo abbiamo perché abbiamo il sindaco, alhamdulillah, il sindaco e il presidente della municipalità che sono qui, che sono venuti per ascoltare e sentire, rivolgere il saluto per la fine di Ramadan. Vedete, non siamo più un ghetto, non siamo più un gruppo di persone estraneo alla comunità, alla civiltà, alla società del paese in cui noi viviamo, siamo parte organica, siamo parte organica, fratelli. Inshallah dei magistris che ha portato per questa città un vento di cambiamento e questo vento lo stiamo respirando, fratelli, anche noi qui, noi musulmani, perché ci sentiamo parte organica, dicevo prima, di questo cambiamento, questo cambiamento in positivo che è iniziato e in ciò l'anno vogliamo proseguire, da adesso e per il futuro. Questo è il significato che i musulmani danno a questo importante momento e giorno storico. siamo alla fine del Ramadan e abbiamo qui per la prima volta nella piazza Mercato, al Hamdurillah, il sindaco di Napoli. Tanti auguri. Buongiorno a tutti, grazie, grazie a Lagozzolino. Sono molto contento di essere qua a portarvi il saluto non solo mio personale ma di tutta la città, in una piazza a noi molto cara, una piazza che ha saputo segnare una pagina storica in questa città. Napoli è una città aperta. Il sindaco considera tutti i cittadini uguali e non ha mai fatto distinzione, non farà mai distinzione secondo il colore della pelle, secondo la religione, secondo la razza e secondo le condizioni economiche e sociali. Non solo perché è una mia convinzione personale ma poi lo dice l'articolo 3 della Costituzione italiana, una Costituzione che è scritta sul sangue di chi ha fatto la resistenza alla dittatura e quindi io l'ho detto prima, in questi cinque anni vorrò instaurare con voi un dialogo aperto, un dialogo franco per conoscere le cose belle che fate, per conoscere i problemi che avete, per cercare di far sì che Napoli possa essere da esempio nel mondo come città che sa guardare non solo al nord Europa, all'Unione Europea, ma che sappia guardare soprattutto al sud del mondo, a quel vento di democrazia che sta avvenendo dal Nord Africa e dal Medio Oriente, vogliamo essere vicini ai popoli che lottano per la libertà, vogliamo dare un esempio di fratellanza, di pace e di uguaglianza nel mondo. Napoli in questo potrà essere da esempio e per diventare da esempio dobbiamo vivere tutti insieme, cristiani, musulmani, ebrei, atei, tutte le persone che hanno a cuore solamente lo sviluppo di una vita dignitosa, giusta e uguale. Le porte del Comune sono aperte, cerchiamo sempre il dialogo e nei prossimi giorni ci incontreremo per trovare la strada migliore per far crescere tutti noi, i nostri figli e questa grande città. Grazie.